Approfondimenti, riflessioni, esibizioni e prove pratiche. All'ospedale Morelli di Sondano lo sport paralimpico sarà al centro di un evento che si svilupperà venerdì 27 gennaio. La SST, Valtellina e Alto Lario con il Comitato Italiano Paralimpico, l'Associazione Unità Spinale nei Guardi e dappertutto organizza Conoscere lo Sport, un evento per presentare e promuovere lo sport paralimpico. Alle 10.30 nella sala convegni del terzo padiglione al primo piano sarà il direttore dell'ospedale Mario Melazzini ad aprire la conferenza. Seguiranno gli interventi dei direttori delle unità spinali di Sondano, Luca Binda e del Niguarda, Michele Spinelli, oltre al presidente del Comitato Paralimpico della Lombardia Pierangelo Santelli di Francesco Mondini e Bruno Frangi di Ausportiva Niguarda, di Walter Fumasoni di Dappertutto, insieme a medici, fisioterapisti e tecnici sportivi di varie discipline. Nel pomeriggio dalle 14.00 ci si sposterà nella palestra del quinto padiglione al primo piano seminterrato per le prove pratiche di paravolley, tiro con l'arco, carabina, fitness, party box, scherma, handbike e tennis tavolo. La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.